Nei primi mesi del 2014 i furti di rame sulle linee ferroviarie sono diminuiti del 17% rispetto allo stesso periodo del 2013. Lo sottolinea il gruppo FS italiane che evidenzia anche come la collaborazione con le forze dell'ordine abbia portato a risultati eccellenti in tutto il territorio italiano. Nei primi cinque mesi del 2014 sono verificati 830 furti di rame in linea e deposito per un totale di circa 288.324 kg di materiale trafugato. Trend positivo anche in Puglia dove quest'anno da gennaio a maggio si sono verificati 78 furti per un totale di circa 6.000 kg di rame sottratto contro i 75 registrati nei primi cinque mesi del 2013 quando erano stati rispettivamente 163 colpi messi a segno nell'arco dell'intero anno e circa 43.000 complessivamente kg di rame trafugato. Dal 2012 ad oggi il gruppo FS italiane ha stimato un danno economico per i furti del rame su tutto il territorio nazionale pare oltre 23 milioni di euro di cui più di 10 milioni per i costi e gli interventi necessari al ripristino della circolazione. Senza contare i disagi per i viaggiatori se si pensa che solo in Puglia sono stati complessivamente 272 treni coinvolti per un totale di circa 5.000 minuti ritardo pare oltre 96 ore. Ma nonostante questi buoni risultati il fenomeno è ancora molto diffuso per questo rete ferroviaria italiana ha potenziato i controlli svolti dal personale tecnico lungo le linee maggiormente colpite. Inoltre si sta provvedendo a sostituire progressivamente nelle aree particolarmente esposte i cavi di rame con materiale alternativo meno appetibile per la criminalità. In alcuni casi invece si è scelto ad adottare ulteriori misure di difesa quale ad esempio l'interramento, l'isolamento del rame con la cementificazione dei cavi doti all'usilio di strutture di cemento.